Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, oggi 3 novembre la Chiesa ricorda un grande santo sudamericano, nato da un uomo spagnolo, un signore spagnolo, San Martino de Porres, e da una donna di origine africana, non era una moglie, quindi lui nacque fuori del matrimonio, ma nonostante il Signore lo santificò fin da bambino, dandogli doni straordinari, lui fu talmente colpito dalla passione di Gesù che durante tutta la sua vita non cercava altro che di contemplare Gesù Cristo, passava ore e ore davanti al Santissimo in adorazione, e la sua vita fu innamorata a tal punto di Gesù Cristo che divenne come uno che gli voleva in tutto essere simile, ma lui si umiliava davanti al Signore e accusava se stesso davanti a lui, però aveva un'altra bellissima virtù che scusava gli errori degli altri, perdonava sempre, ed una carità ammirevole, e il Signore lo ricolmò di grandi doni taumaturgici, il dono anche dell'ubiquità che spesso si trovava in posti diversi a benedire, a diutare le persone, e donne di estasi, ed è ricordata appunto come il santo della carità, i più poveri erano oggetto della sua attenzione, tanto che lo si chiamava appunto il fratticello della carità, il fratticello dell'amore, e oggi, fratelli, anche noi continuiamo la nostra contemplazione durante tutto il mese di novembre, la Chiesa ci mette in preghiera per le anime dei defunti, ma prima di tutto per contemplare quella che è la realtà della vita dell'uomo, che non si smarrisce e non si esaurisce nel tempo presente, la nostra anima dura in eterno, e siamo chiamati alla gloria eterna, con la risurrezione anche del nostro corpo, con la glorificazione di tutto il nostro essere, e questa è la prima cosa che noi dobbiamo cercare in questo mese di novembre, nella società di oggi, ricordiamocelo pure, fratelli, ha ormai negato l'esistenza di ogni bene ultraterreno, tolto quella piccola frangia della Chiesa, che continua a camminare nella fede, nella rettitudine, secondo i dettami del Vangelo, la gran parte della società rinnega questi valori, questa realtà, riducendo tutto a materia, riducendo tutto a ciò che si può toccare e vedere, mentre noi abbiamo uno spirito, abbiamo un'anima, e come tali abbiamo attività spirituali, e come tali abbiamo beni spirituali, che vanno molto al di là dei beni sinceri, che sono quelli materiali, sono beni eterni, e quindi la Chiesa ci fa contemplare, durante questo mese, questa nostra realtà, fatte simili a Dio, fatte di carne, di spirito, di anima e di corpo, l'abbiamo visto in altre circostanze, il corpo è la nostra parte esteriore, con cui entriamo in relazione con il mondo che circonda, con il mondo materiale, quindi il corpo è guidato da sensazioni, da passioni, da istinti, e via dicendo, e l'anima è il nostro essere spirituale, e lo si deduce da che cosa? Dalle attività spirituali che noi esercitiamo, prima o fra tutto la coscienza, ma al di sopra di tutto, la capacità di amare, la capacità di trascendere spazio e tempo, la capacità di fare comunione di amore, la capacità di entrare in relazione con Dio, o con gli spiriti beati, ed è un fatto, questo avviene in continuazione, e poi quel che noi chiamiamo lo spirito, lo spirito è, possiamo dire, l'anima della nostra anima, lo spirito è ciò che l'anima ama, e l'anima si trasforma in ciò che ama, quando l'anima si lascia amare da Dio, l'anima nostra in lui si trasforma, secondo le parole dell'Apostola che dice, noi a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello spirito del Signore, ed ecco allora, che quando la nostra anima si riempie di Cristo, noi vendiamo Cristo, non sono più io che vivo, Cristo che vive in me, e questo è un discorso che noi troviamo, costantemente in tutta la scrittura, infatti si parla di essere rigenerati di nuovo, rigenerati, come dice Gesù a Nicodemo, su non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio, vedete che bel dono che abbiamo tutti i fratelli, anche se abbiamo dei difetti, anche se abbiamo commesso degli errori, il Signore con il suo amore ci fa nascere da capo, ci fa rinascere dallo spirito, non dai sensi, ciò che nasce dalla carne è carne, dice Gesù sembra a Nicodemo, ciò che nasce dallo spirito è spirito, perciò il Signore ci fa rinascere da capo, per cui quello che è caduco, quello che è mortale, questo viene abbandonato, ecco allora che le passioni, la corruzione, i giudizi, le violenze, tutte queste cose, sono destinate a scomparire, e a vivere in noi, quello che abbiamo detto prima, in San Martino de Porris, quell'amore, quell'amore, che è d'ora e nederla, quell'amore che più passa il tempio, più si accende, e più penetra la nostra anima, quest'amore non è sempre accompagnato dalle sensazioni, a volte l'amore è accompagnato da quella sensazione di fuoco nel petto, altre volte invece queste sensazioni, a motivo del nostro stato fisico, dell'età, eccetera, potrebbero non manifestarsi, ma ugualmente l'amore è dentro il cuore, lo traspare da ogni poro della nostra pelle, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre, per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente, e allora durante questo mese, di novembre, la Chiesa ci chiama, a guardare anche le armi dei nostri fratelli defunti, perché tanti non hanno raggiunto la condizione, di una piena e totale rinascita, a vita nuova, allora hanno bisogno, della nostra intercessione, perché? Per sempre per quel principio, che Gesù salva, con tutto il suo corpo, noi siamo membri del corpo di Gesù, San Paolo nella lettera ai Colossesi, al capitolo primo, versetto 24, ai suoi cristiani, meglio, noi non abbiamo mai evangelizzato Colossi, avevano mandato dei suoi collaboratori, dice che appunto lui si dava da fare, per salvare tanti, e aggiungeva, diceva, e ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi, e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo, che è la Chiesa, manca, che cosa? La mia partecipazione al sacrificio di Gesù, ecco che allora, noi possiamo essere utili alle anime dei defunti, in che modo? Partecipando alla passione di Gesù, amando i nostri defunti, come li ha amati Gesù Cristo, perdonando, come ha perdonato Lui, e Gesù Cristo è salito sulla croce, assumendo i nostri peccati, allora come tu, membro del corpo di Gesù, chiedi perdono, al Signore dei peccati, dei tuoi cari defunti, chiedi al Signore perdono, per i loro errori, ti penti tu come se li avessi commessi tu, davanti al Padre, partecipi al sacrificio di Gesù, Gesù ha assunto su di noi, su di sé, le nostre colpe, come le ha assunto? Facendosi uomo, nella prima lettura di oggi, San Paolo parla di questo abbassamento di Gesù Cristo, che pur essendo in natura divina, non ritende cose gelose, essere uguali a Dio, ma spogliose stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce, per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato un nome, che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, Gesù si è umiliato, per questo Dio ce l'ha esaltato, e noi, fratelli, come veniamo umiliati con Gesù Cristo, veniamo glorificati insieme a Lui, ma anche come Gesù, ha dato se stesso per riscatto per tutti, ci chiama ad essere con Lui, collaboratori nella redenzione, mettendo la nostra goccia d'acqua, in quel calice del suo sangue, per la nostra partecipazione, alla redenzione di tutti, e Dio vuole tutti i salvi, e ce lo dice Gesù nel Vangelo, parlando con dei farisei, che dicevano, beati, che potrà mangiare il cibo nel regno di Dio, e Gesù risponde, un re fece una mensa, ma gli invitate non andarono, e Gesù fa chiaro riferimento al popolo del suo tempo, che non partecipava al banchetto divino, che Dio aveva prontato, mandando il suo figlio sulla terra, e allora loro si vanno a chiamare i lontani, i pagani, i peccatori, tutti coloro che erano esclusi in precedenza, tutti vengono invitati ad entrare alla mensa del Signore, e così anche i nostri defunti, fratelli, oggi godano della Tua carità, la Tua preghiera, godano della Tua intercessione, godano della Tua partecipazione alla passione di Gesù Cristo, godano della Tua partecipazione alla gloria di Gesù, vivendo con Gesù Cristo, e Gesù la nostra pace, Gesù la nostra vita, Gesù la nostra salvezza, Signore Gesù, oggi noi ti chiediamo, in virtù della potenza della Tua gloriosa risurrezione, porta liberazione alle armi, tutti i defunti, conducila a quella state di gioia perfetta, e introducili nella gioia del Paradiso, in compagnia dei Tuoi Santi, perché sia gioia eterna, questa è la Tua gloria, portare anima a salvezza, e che sia anche la nostra gloria, accompagnarti, Signore, in quest'opera di salvezza, insieme alla Tua Santa Madre, che in ogni istante intercede per noi, ci partecipano tutte le benedizioni che hai ricevuto dal Padre, per essere Tua madre, per essere anche nostra madre, e per accompagnarti in quest'opera di redenzione. Vergine Santissima, conducici a Gesù, Signore e Salvatore, Redentore dell'umanità intera, in cui ogni creatura umana trova salvezza, a Lui gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli e dei secoli. Amen. E noi perseveriamo durante questo mese, fratelli, in quest'opera di intercessione, che è un'opera santa, che è un'opera di pietà, e un'opera sacerdotale, partecipare insieme a Gesù nella redenzione degli altri, condividendo con Gesù la Sua passione, per condividere anche la Sua gloria. E siate tutti benedetti dal Signore. Grazie. Grazie.